Allora, questa è una coreografia di Buki Buki, di Elisa Carpaglini, che è la nostra insegnante alla dimensione danza. Questa coreografia ha vinto il concorso Danzando sotto le stelle e si è classificata al secondo posto al concorso Expression a Danza in Piera a Firenze. Ecco a voi, West Love! Allora, questa è una coreografia di Buki. Allora, questa è una coreografia di Buki, di Elisa Carpaglini, che è la nostra insegnante alla dimensione. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti